Io sono entrato a ginnastica artistica a 14 anni e ho visto, vedevo questo bestione perché anche lui era grosso e anche da lì mi era venuto il pallino di... Gli anellisti sono generalmente grossi Ha le braccia molto grosse Io ho gli Unikeiki da 90 kg praticamente Sì, allora gli Unikeiki però è tipo così Gli Unikeiki da 90 kg